Bella gente, Gio di Tegamers qui presente Oggi sono qui con un nuovo video sui smartphone In particolare sono su Lumia 930 Windows 10 build 10.080 Non so se è la 10.000 o la 100 Vabbè, non me ne frega niente E' la 10.000, giusto? Allora, questa build Corregge alcuni problemi Ma porta con sé alcuni bug Ecco, vedi? Uno di questi è questo qui Allora Ma porca miseria, non lo so io Apre le cose da solo sto coso Porca miseria, levati va Comunque Ma per prima cosa Iniziamo dallo store beta Che è stato aggiunto in questa build La 10.080 Allora Adesso ci mettono un po' a caricare A pure la batteria scarica Mannaggia, al patermonio Una cosa veloce È una cosa veloce Ok Questo è lo store beta Completamente differente dal store normale Infatti qui c'è una classifica di app Categorie di app Si può girare di quasi Categorie di giochi Classifiche di giochi Categorie di giochi Per esempio Noi andiamo su Classifiche di app Allora Nuove da emergenti Queste qua sono le nuove app Che bello Allora Qui c'è Sono tutte le applicazioni nuove Appena uscite Vabbè Non so se lo store o male Siano pure queste Stab comunque Andiamo indietro Ma cosa fai Mamma mia Tutto lo so Vedi È buggata Stabbuild Infatti non ve la consiglio E sarà sul dispositivo principale Perché No Whatsapp Facebook Messenger Meteo MSN Sport Skype MSN Notizie Money Adobe Reader YouTube Line Twitter Shazam Instagram Beta Il Meteo Ok Qua c'è un'app Con il voto migliore App nuove da emergenti Come ho visto prima Lì Qua ci sono giochi più scaricati Gratis Giochi più scaricati A pagamento Giochi con il voto migliore Giochi con nuove da emergenti Mh Questo cos'è? Non l'ho mai visto Ah forse sono le nuove app No Non nuove Le app In primo piano forse Questo sono giochi per i bambini forse Raccolta Cosa sono queste cose? Foto perfetta Denaro e budget Vabbè Questo è lo store beta Poi stendiamo qui Nome Hamburger Home App Giochi Musica Filme tv Impostazioni download Qui Verranno Compariranno i vostri download Dello store beta ovviamente Il controllo automatico dei giornamenti Di applicazioni Non è presente In store beta Quindi no Dovete farlo manualmente Schiacciando questo bottoncino Andiamo indietro Dai porca miseria Vedi È da baggata Mami Poi un'altra novità Sono le universal app di office Che sarebbero Word preview Excel preview OneNote E poi powerpoint Noi iniziamo da word Allora Mi ha aperto Sì ok Qua sono i documenti di one drive Documenti 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 No 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 Browse Recenti Questo dispositivo One drive Vediamo se Andiamo su one drive Non crash Come fa di solito Eh Sing in Noi schiacciamo Log Andiamo qui E crash Vedete Questo è uno dei bug Che non va assolutamente bene Ah beh Vediamo Apriamo un documento Anzi ne creiamo uno Che non so ma che documenti Sono quelli Un documento bianco Creazione Ok Scriviamo Ciao Come stai Se no Lo possiamo dire a voce C'è pure il microfono lì Se no Non so se l'avete visto qui Ciao Come stai Bravo Avete visto Il microfono lì E' perfetto Funziona Molto bene Per adesso Non mi ha sbagliato Una parola Comunque Allora Andiamo su Io l'ho scritto Troppo piccolo E' minuscolo Manca un Un cielo fardo Lo legge Andiamo su documenti E non so Perché vedi E' bugato Vabbè Con 8.1 GDR2 Non succedeva tutto ciò Save Salve Salve una copia Di questo Del file Scusate ma Mi fa male la voce Mi fa male la go La voce Questo dispositivo Su Documenti Salviamo Qua Va bene Così Salviamo qua E non l'ha salvato Non l'ha salvato Andiamo a vedere Sul file manager File explorer Questo dispositivo Documenti Documento 1.1 Che era questo Vi ricordate che era questo Adesso vi faccio vedere Che non l'ha salvato Ma non si apre Non lo so E' bugatissimo Can't open file Sorry Something was wrong And document You Can't open Infatti L'ho detto io Non si apre Che ci devo fare Se non è stabile Poi Vediamo su Su Excel Salva Forse Non l'ho mai provato Proviamo Nuovo Nuovo Dai Salva Salva la copia del file Dispositivo Documenti Qua Book Questo l'ha salvato Credo Andiamo a controllare Lo vedo Allora Dispositivo Documenti Dove era Book Qua Aspettate un attimo Che è lentissimo Essendo Windows 10 Insider preview Da notare Insider preview Sto caricando E Qua Fino a domani Ce l'abbiamo Can't open file Non ha salvato Nè merito Niente Vabbè Comunque Non ve lo consiglio di installare Infatti dopo Dopo sto video La toglierò E metterò Di nuovo GDR2 L'ho installato giusto Per fare il video L'altra novità L'Xbox app Signa quella di Windows 10 Per il computer Adesso Oppure vuole Per il computer Ve lo faccio vedere Questo per il computer Windows 10 Vediamo il computer Allora Aspettate che Su computer Windows 10 Molto stabile Infatti Non mi è mai crashato Sul telefono Si qualche volta Essendo Ci sono le stesse immagini Vedete È una diversa app Pure questa Game DVR Andiamo su Community Qui ci sono i video Trials Su web pantheon So CloudBit Advanced Warfare Andiamo pure qui Game DVR Community Trials Su web pantheon So Blah 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 Vedete È uguale Trials Trials Eccetera eccetera Questa È un'altra Applicazione Universale Un'altra novità È Music Preview Che non va a sostituire Ma per adesso È un'applicazione a parte L'applicazione Xbox Musica Io ovviamente Non ho musica All'interno del telefono Album C'è proprio una mazza Nemmeno qui C'è niente Io non ho un po' più musica Show my music Vedete Non c'è niente Questa è un'applicazione a musica Sempre con un hamburger Vedete tutto Artisti Non c'è niente L'altra applicazione nuova È Video Preview Sempre Sarà Il sostituto di Xbox Video Oh Autofocus Scusate Ci trovo qualche piccolo inconveniente Fai sto autofocus Dei miei stivali Porca miserietta No Devo far vedere La musica Qua non so se si vede C'è scritto Video Movie TV E send feedback Feedback Uguale Io non ho Video Nel telefono C'è c'è Neo Ma non mi li vede Non so come mai Vabbè È uguale Allora Poi c'è La nuova applicazione Della fotocamera Dai porca miseria Fai sto autofocus Bravo Allora Fotocamera Fotocamera Che sarebbe Lumia Camera Che è andata a sostituire Praticamente No La fotocamera Integrata di Windows Phone 8.1 Non ho bisogno Non ho bisogno di farvi vedere Fotocamera Perché Sapete già che Sarebbe Lumia Camera Sapete già com'è Lumia Camera E niente Credo che Vi abbia fatto vedere Tutto Adesso Vi elencherò Brevemente I bug Allora Ci sono dei bug Per esempio Che Quando fai video Con la fotocamera Il video Si ferma Due secondi E poi si Crash Questa È Un bug Un altro bug Che non puoi salvare le foto Da internet Sia da Project Spartan Sia da Internet Explorer Poi Un'altra applicazione Sì Un'altra applicazione Mamma mia Fa caldo Ci sono 40 gradi Mamma mia Rendiamoci conto Rendiamoci conto Poi A volte Potrebbe capitare Il bug Dell'Hub Contatti Hub Hub Contatti Che non si apre Fa così E crash all'istante Anche Sei tag Di Rudy Jun Che L'icona scompare A volte Anche Messenger Non vi si apre E crash In mezzo secondo L'altra cosa Brutta Che Sull'app Foto Gli album Non funzionano E non vede Tutte le vostre foto Di conseguenza Che anche Se andate su Whatsapp Selezionarvi la foto Non vede I vostri album Di tutto Cosa che In 8.1 GDR2 Scusate Succedeva Un altro bug Se aggiornate Da 8.1 E questo Aspettate un attimo Risparmio batteria Se l'aprite Vedete Crash Non funziona Infatti ho potuto fare Un'altra roba Per farlo funzionare Ma non quella Ho messo il pin Ho pinnato Un'icona Dalle importazioni Infatti Questa qua Sarebbe il nuovo Applicazione Risparmio batteria Ah Un altro bug Diciamo Se fosse un bug Alla fine Un bug Che la batteria Non dura Praticamente nulla Vi dura Se no Vado a fare Una media Testando Personalmente Dura 3 ore Usandolo 3 ore Usandolo Quindi Vedete Non ve la consiglio Poi io Ho creato Un'applicazione Pena il canale Di Techamers L'ho Deployata Nel telefono Non funziona Non si apre Proprio per niente Non funziona Devo aspettare Che rilascino Il tool Per il Windows 10 Phone Mobile Ma Io non posso aspettare Che io Ovviamente torno 8.1 Così l'app Funziona E presto Quest'app La vedete Su Come si chiama Lì Sullo store Di Microsoft Niente Che dire Ci sono ovviamente Altri bug Che vi scriverò In descrizione Porca Misere Fa troppo caldo Sto sudando 20 camicie Che non ho Vi dirò Nella descrizione Ve le elencherò Anzi Perché sono davvero lunghi Non posso dirle Comunque Spero che non vi Siate annoiati Spero che non ho sbagliato niente Anche se qualcosa Svrò sbagliato Sicuro Vabbè Ci vedremo nel prossimo video O un qualche gioco Oppure qualche telefono Non lo so Vedremo Ok Restate Sintonizzati Bella